Musica Buongiorno a tutti quanti ragazzi, sono Ivan Martellato e oggi sono qui per proporvi la PSPA Plus della 4Plus Nutrition. Innanzitutto che cos'è la PSPA? La PSPA è una fosfatilserina. La fosfatilserina è un componente delle membrane cellulari del nostro organismo e la sua peculiarità è quella di essere abbondantemente presente nel tessuto del sistema nervoso centrale e periferico. La fosfatilserina infatti, essendo presente sul sistema nervoso, ha un'importante azione sulla modulazione dello stress ed è molto utile, se non indispensabile, nel abbassare i tempi di recupero durante la sessione allenante e di abbassare lo stress derivante da allenamenti intensi. Ma come fa la fosfatilserina a modulare lo stress psicologico e a migliorare la performance nell'allenamento? La peculiarità della fosfatilserina sullo stress è quella di abbassarlo attraverso la riduzione dei livelli di cortisolo ematici. Tuttavia, gli effetti positivi sulla memoria e sulla performance sportiva avvengono indipendentemente dalla modulazione del cortisolo, molte volte. E questo fa capire come la fosfatilserina può essere utile anche senza una diretta modulazione di questo ormone. Ma quanto assumere quindi di fosfatilserina? L'assunzione di fosfatilserina va dai 600 mg al grammo. Ovviamente le dosi dipendono da come e quanto è stressato l'individuo. Chi è che deve assumere PSPA+. PSPA++ va assunto dai soggetti che svolgono dei allenamenti molto intensi o di alto volume, quindi soggetti che fanno anche attività aerobica anche tutti i giorni, oppure soggetti che svolgono sport agonistici che si allenano tutti i giorni per due volte al giorno, quindi non solamente una. Ma PSPA++ è consigliato anche a quei soggetti che, sebbene si allenano tre volte in una settimana, svolgono una vita molto stressata a causa del lavoro incessante o a causa di tutte quante le altre componenti della vita di tutti i giorni che possono aumentare i livelli di cortisolo. Si consiglia questo integratore perché in concomitanza della fosfatilserina è contenuto anche acido fosfatidico. L'acido fosfatidico, oltre a potenziare e modulare positivamente l'azione della fosfatilserina, ha anche un'importante azione anabolica. Per oggi direi che è tutto, Ivan Martellato per la 4 Plus Nutrition e ci vediamo al prossimo video.